Una discarica nascosta nel cuore di Pescara. Sorvolando in elicottero il capoluogo adriatico, la Guardia di Finanza ha scoperto una baraccopoli recintata e difficilmente visibile da terra. Un agglomerato di strutture precarie e abusive, utilizzate, fanno sapere le forze dell'ordine, per lo svolgimento di attività economiche e per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi. Dalle immagini sembrerebbe un magazzino, un'officina. Intorno però è disseminata immondizia di ogni tipo che potrebbe mettere a rischio la salubrità della zona. L'operazione non è volta solo alla salvaguardia dell'ambiente, ma è anche tributaria. Infatti oggi esiste l'ecotassa, ovvero il tributo speciale previsto per il deposito in discarica di rifiuti solidi, il quale si applica anche in caso di illeciti e discariche non autorizzate. La base imponibile è determinata in relazione alla quantità e alla tipologia di rifiuti. Secondo i tecnici della Guardia di Finanza, in questo caso sono stati migliaia gli euro di tasse non versate. L'area, di circa mille metri quadri, è stata sottoposta a sequestro e tre soggetti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per violazione delle norme ambientali.